Ciao a tutti, sono Maria Teresa Amarone e ho partecipato alla Masterclass di Mattia Di Tommaso di Europrogettazione. Ho scelto questo percorso perché volevo qualcosa di molto pratico che mi aiutasse ad apprendere ma anche essere in grado subito di mettermi alla prova e questo ha funzionato. Nel corso della Masterclass poi c'è stata data la possibilità di fare un Project Work per cui ho presentato un progetto. Mi sono proprio un po' buttata ma era un po' quello che volevo. Ci sono state anche delle occasioni di poter partecipare anche direttamente a dei progetti e spero che ce ne saranno ancora. Devo dire che quello che mi aspettavo l'ho ottenuto. Spero di poter continuare su questa strada con Mattia e saluto tutti. Grazie.